ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video questa è una ricostruzione fatta su mia mamma e ha scelto questo bellissimo colore non è di passione unghie non ricordo ne manco di che marca è perché tanto che ce l'ho è un argentato con dei micro brillantini all'interno un po arcobaleno insomma brillantinato qui faccio vedere che ho dato da passate ma alla fine ho dato anche una terza alla fine io ho utilizzato il lucido ultraglossi di passone unghie e l'olio cuticole e spero che vi piaccia a una cosa la struttura l'ho fatta con cream con creamy build e niente io spero che il video vi piaccia se sarà così metterete i pollici in su sotto al video se volete mi commentate e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.